Volevo chiedere a frate Lotti se in tempo di Covid siamo perdonati nel non andare a messa. Torniamo un po' su questo argomento che vedo che vi interessa. Allora ripetiamo, oggi preferibilmente non usiamo la parola precetto festivo, non perché sia stato tolto il cosiddetto obbligo di messa, ma perché ha più senso parlare di una messa della comunità. Allora è importante, siccome siamo cristiani, incontrarci a celebrare l'eucaristia. Chi non si incontra a celebrare l'eucaristia è altro, ma non è cristiano. Dopodiché ci sono delle condizioni particolari di salute che mi impediscono ad andare a messa, ci sono anche delle situazioni prudenziali e allora non vado a messa. Ma non vado perché è più prudente che non vada, perché il medico mi ha detto di stare in casa e per altri motivi. La paura, se la paura è così forte che non mi fa andare nemmeno al mercato, che non mi fa andare nemmeno a trovare i miei amici, è giustificabile. Se poi la paura ce l'ho solo se vado in chiesa, beh, allora metterei qualche punto interrogativo. Bisogna riflettere su questo. Abbiamo ancora un altro messaggio, Regia, così approfittiamo di questo momento. Ecco qua, padre Luciano, io vi chiedo, se non vado spesso a messa, ma sento sempre il rosario e la messa tutte le sere su TV Sampio, vale o no? Vale. L'altra volta ne abbiamo parlato, vale. C'è sempre un po' questo fatto, il problema di valere la messa. La messa è messa perché è partecipata fisicamente. È chiaro che ci sono, l'abbiamo detto prima, delle condizioni per cui io non posso andare fisicamente a messa e allora ovviamente la seguo per televisione e ha senz'altro un suo valore, non è la partecipazione alla messa, questo è importante. Allora mi aggiungo io, qualche giorno fa ho frequentato dei ragazzi ai quali chiedevo perché non andassero a messa. Tutti, ma tutti, hanno risposto che non vanno a messa perché la messa è noiosa, è troppo lunga. Che cosa rispondiamo a questi ragazzi? Rispondo che in realtà la messa è uno strumento di comunicazione che lo ha voluto Gesù così. È chiaro che si deve adattare ai tempi. Forse prima c'era una ritualità, c'era soprattutto un'individualità di fronte alla messa per cui il sacerdote celebrava, uno aveva le sue devozioni e si risendiva di meno, ma anche prima c'era un pochettino questo fatto che ci si lamentava della messa che non era lunga. E qui è un discorso bipartisan, se vogliamo dirlo. Dobbiamo essere noi sacerdoti a porci il problema di rendere le celebrazioni non accattivanti, ma di rendere le celebrazioni per quello che devono essere uno strumento di comunicazione. E quindi devo tenere presente che devo comunicare qualche cosa. Diciamo che non è veramente una scusante dire che non vado a messa perché è pesante, perché allora anche la scuola è pesante. Ci sono molte altre situazioni che sono pesante e le dobbiamo fare lo stesso. Forse bisogna chiaramente educare un po' di più i giovani anche proprio all'idea di una partecipazione a messa importante perché io ci sono, perché vedo dei fratelli che sono vicini a me. Poi questi fratelli possono essere qualche volta più simpatici, meno simpatici, ma sono la mia famiglia.